Pesco, adesso che ti pesco alla fine di questa presentazione, comunque ci sono tante belle aspettative io penso, no? Assolutamente, innovo i complimenti a massimo a tutta l'organizzazione perché sono attività importanti, attività per i ragazzi soprattutto, io le ho giocate quindi adesso io da tecnico sono manifestazioni comunque attese sia dai ragazzi che parteciano, dagli allenatori, genitori, insomma coinvolgono tutti quanti, il ragazzo non aspetta altro che far parte di queste rappresentative, è una cosa perché è un momento comunque più importante, di confronto, di crescita, ti dà tantissima emozione comunque di dare la presentabilità. Adesso ti occupi te dell'Undersense a livello regionale, giusto? E Andersense a livello nazionale, sono il capitano della nazionale, noi giocheremo E invece a livello regionale? A livello regionale seguo i 2003, 4 e 5 dei raduni del CIPIA che faccio a Milano e una volta al mese faccio un raduno regionale dei 2006, 7, 8 maschi e femminili quindi domani ne abbiamo uno e convochiamo tutti i ragazzi più promettenti che hanno qualità insomma, non è solamente il risultato dei tornei ma quelli che secondo noi, secondo noi, sono i tecnici provinciali e hanno qualità e come ho detto prima la crescita è importante per loro quindi non bisogna fermarsi a tanto risultato ma bisogna con la crescita che hanno, con il progetto che ognuno ha dietro. Abbiamo Stefano, questo solido tecnico federale.